Hai mai trovato quella sensazione di agitazione che sembra stringere il petto rendendo difficile il respiro? Sei mai trovato a lottare per addormentarti a causa di pensieri incessanti? Tutti questi possono essere i primi segni di uno stato di ansia. Ciao, sono Giulia Gori e sono una psicologa clinica ed oggi insieme parleremo di come affrontare l'ansia e la stanchezza psicofisica. Spesso sentiamo parlare di ansia ma è importante comprendere che molti dei sintomi che sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana derivati dalla vita frenetica, dal lavoro, dalla famiglia potrebbero in realtà essere segni di stanchezza psicofisica. La stanchezza psicofisica e l'ansia possono manifestarsi in diversi modi all'attenzione muscolare, a difficoltà a concentrarsi, a irritabilità ed è per questo che oggi, con questo video, voglio darvi alcuni consigli per affrontare al meglio la stanchezza psicofisica che si presenta ogni giorno. Le tecniche di rilassamento, la meditazione, lo sport e uno stile di vita sano ed equilibrato possono aiutare al meglio a gestire questi sintomi. Tra i rimedi naturali che ho sempre raccomandato ai miei pazienti c'è l'integratore Red Moringa, a base di grifonia, 5-HTP, agrimonia, vitamina B6 e moringa. Questi ingredienti sono completamente naturali e sono noti per le proprietà di supporto contro l'ansia e contro lo stress. La grifonia favorisce il rilassamento, il 5-HTP può influenzare positivamente l'umore, l'agrimonia può allenire la tensione muscolare, la vitamina B6 è essenziale per la salute mentale e la moringa è rica di nutrienti benefici. Se senti che la stanchezza psicofisica sta influenzando negativamente la tua vita ti consiglio di provare questo integratore, integratore Red Moringa. Ma se i sintomi sono più intensi e persistenti, non esitare a cercare supporto e a contattare un professionista della salute mentale come uno psicologo o come uno psichiatra e consiglio un percorso di psicoterapia. Ricorda, prendersi cura della tua salute mentale è un passo importante e fondamentale verso il benessere complessivo. Trova ciò che funziona meglio per te e non esitare a chiedere aiuto a un professionista quando hai bisogno. Resta sereno e in salute.